Come risolvere così l'errore riguardo a m1-steam sul gioco The First Sentent, quindi in questo caso questo è l'errore in questione, quindi è possibile risolvere il problema facendo una verifica di integrità dei file oppure eliminare così le cache su steam oppure disconnetterci direttamente dal nostro account steam e rifare di nuovo l'accesso. Quindi andiamo direttamente sul nostro gioco, quindi nella libreria, vai direttamente su impostazioni, vai su proprietà, una volta fatto vai direttamente su beta, partecipazione alla beta e qui metti nessuna, una volta fatto vai su file installati e qui ci sono la verifica integrità dei file del gioco. Quindi in questo caso andiamo direttamente su, sempre sulla rotella, gestisci, vai su proprietà, vai su file installati, vai su sfoglia, i file locali. Una volta fatto, vado su nella cartella M1 ed eccola qua, binaries, win64 ed eccola qua. M1 win64 shipping.exe, tasto destro sopra, mostra altre opzioni, proprietà. Ma, vado direttamente su, se qui c'è scritto attributi solo lettura, togli la solo lettura, firme digitali ed eccola qua. Vai su dettagli, quindi clicca il primo, visualizza il certificato, installa così il certificato, utente corrente. Facciamo avanti e facciamo fin. Importazione completata. Una volta fatto questo, passiamo al secondo. Vai su dettagli, vai su visualizza il certificato, installa il certificato, utente corrente. Vai avanti e facciamo fin. E facciamo ok. M1 win64 shipping.exe puoi anche avviare come amministratore, quindi al posto di cliccare su gioca su steam, vai direttamente nella sua cartella e fai esegui come amministratore. Se non dovesse funzionare. Un altro problema che puoi risolvere, vai direttamente su esegui, quindi scrivi qua esegui. Vai direttamente nella cartella per cento, app data per cento, fai ok. Vai su roaming, se c'è la cartella del first sentence, quindi entri così in quella cartella di roaming e cancelli la cartella del gioco. Ok, la cancello. Vai su app data, vai su local, vedi se ci sono altre cartelle che si collegano al gioco. Quindi la cartella si chiama the first sentence, quindi cancella quella cartella e chiudi. E fai la verifica integrità dei file del gioco. Una volta fatto, come ti ho detto, sempre sulla rotella, gestisci, foglia i file locali, m1, binanis, 64, tasto destro sopra e facciamo esegui come amministratore. Il gioco si è avviato senza nessun problema. Grazie. Quindi, per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video. Il gioco si sta connettendo così ai server, quindi funziona. Quindi grazie a tutti per questa visione. Come ho detto, per altri problemi, commenta sotto al video. Cercherò di realizzare altre guide a riguardo al gioco. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. 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 Ciao.